Alba Parietti non ci sta a passare per quella che si è beccata un 2 di picche da Alain Delon in occasione di Miss Italia 1000 e 991. Intervenuta a casa chi, la showgirl piemontese ha dichiarato che Maria Teresa Ruta ha fatto una sceneggiata totalmente inventata. Inoltre, la mamma di Francesco Oppini ha annunciato un confronto domani, venerdì 29 gennaio. In occasione della 34esima puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha raccontato un aneddoto del passato legato a Miss Italia 1000 e 991. La mamma di Gwenda Goria ha spiegato di essere stata invitata a cena da Alain Delon al termine del concorso di bellezza. Dopo essere andata in hotel per cambiarsi il vestito, al suo ritorno Maria Teresa trova un'altra donna al tavolo dell'attore. Incalzata da Alfonso Signorini, la sessantenne ha spiegato che quella donna era Alba Parietti. Per replicare alle affermazioni di Maria Teresa Ruta, Alba Parietti ha fornito una sua versione dei fatti completamente differente. La showgirl piemontese aveva etichettato Ruta come un persona mitomane e fantasiosa. Intervenuta nella diretta Instagram di casa chi, la mamma di Francesco Oppini, è tornata a puntare il dito contro l'ex moglie di Amedeo Goria. In merito alla cena citata da Maria Teresa, Parietti ha spiegato che al tavolo erano lei, Tomba e Alain Delon. Dal momento che loro erano i presidenti di giuria nessuno sarebbe potuto stare al tavolo con loro. In merito alla personalità dell'attore francese, la 59enne ha riferito che il suo ego in confronto a quello di Alain è nullo. Inoltre, Alba ha confidato che Delon in passato l'ha corteggiata, ma lei non ha mai ceduto alle avance. Per quanto riguarda le affermazioni rilasciate da Maria Teresa, Alba Parietti ha chiosato, quella di Ruta è stata una sceneggiata che si è inventata. Prima di concludere il suo intervento a casa chi, Alba Parietti ha annunciato che venerdì 29 gennaio arriverà al Grande Fratello Vip. L'intento? Avere un confronto con Maria Teresa Ruta proprio sulla vicenda legata ad Alain Delon. Nel frattempo, va detto che la concorrente del reality show di Canale 5 ha già smentito la versione della Parietti. Ruta parlando con gli altri vipponi ha negato di essere una bugiarda. Dunque, l'incontro tra le due si prospetta di fuoco.